ad alta velocità notizie e pensieri pendolari ben ritrovati su ad alta velocità da giuseppe manzo oggi 16 febbraio 2022 le prime pagine dei giornali continuano ad aggiornarci sulle tensioni al confine ucraino con l'apertura di uno spiraglio diplomatico mentre irrompe in evidenza sempre in prima la decisione della consulta di dire no al referendum sull'eutanasia legale il nostro focus di oggi però ci riporta sui temi della sicurezza del lavoro dopo la morte del sedicenne giuseppe lenocci che segue quello del 18enne lorenzo parelli entrambi caduti durante uno stage in alternanza con la scuola gli studenti hanno immediatamente protestato in varie città italiane a roma è scritto in un lancio dell'agenzia a dire il movimento la lupa ha promosso un corteo non autorizzato dal ministero dell'istruzione fino a montecitori accendendo fumogeni intonando slogan al megafono contro il ministero e contro le forze dell'ordine poi in piazza anche a bologna torino milano e bari venerdì 18 febbraio è prevista una mobilitazione nazionale per portare la rabbia della nostra generazione dopo questa ennesima morte dichiarano le organizzazioni studentesche sulla vicenda è intervenuta anche l'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro con il suo presidente zoello forni ascoltiamo le sue parole avevo solo 13 anni quando una lamina di vetro mi ha tranciato la gamba appena sotto il ginocchio e da allora nulla è stato più come prima ma pur facendo parte dell'anmi da oltre 50 anni non smetto mai di sorprendermi come la sicurezza sul lavoro non riceva la dovuta attenzione e la prevenzione non produca i risultati che sarebbero spiccabili con la moderna tecnologia di cui oggi disponiamo giuseppe le noci a 16 anni ha perso la vita per un incidente accaduto in un'occasione per la quale abbiamo pianto solo poche settimane fa a seguito della morte di un altro studente ora dobbiamo chiederci perché accettiamo che accadono simili tragedie come se le ritenessimo inevitabili luana lorenzo e ori giovanissimo giuseppe sono solo i più giovani di una lunga strage di innocenti che vede sul banco degli imputati la nostra mancanza di rispetto per le norme di sicurezza in questa situazione che accende l'attenzione unicamente quando muoiono lavoratori o giovanissimi stragisti viene da interrogarsi anche come si racconta mediaticamente questo fenomeno e come si racconta la sicurezza sul lavoro ascoltiamo il giornalista stefano milani direttore del portale di informazione collettiva punto it purtroppo noi di collettiva conosciamo bene questa strage quotidiana mediamente tre volte al giorno diamo notizia di edili che perdono la vita cadendo da un ponteggio di agricoltori travolti mentre sono alla guida del proprio trattore di operai risucchiati da un macchinario di rider travolti ad un incrocio stradale e la lista potrebbe continuare a lungo la morte dei due ragazzi lorenzo e giuseppe aggiunge una tipologia nuova e tragica a queste tragedie rende qualunque commento inadeguato aspettando ovviamente che la magistratura faccia il proprio corso una cosa è certa senza una presa di coscienza collettiva del modo in cui questo paese tratta il rapporto tra istruzione e lavoro e più in generale il valore la dignità che al lavoro e alla scuola si attribuisce incidenti simili rischiano di continuare a ripetersi all'infinito e continueranno a ripetersi all'infinito anche in modo molto ipocrita tutte le lacrime le parole di circostanza dopo ogni maledetto lutto per questo serve un radicale cambio di rotta innanzitutto garantendo il diritto alla sicurezza in tutti i luoghi di lavoro serve maggiore prevenzione soprattutto un'assunzione di responsabilità affinché si superi per sempre la logica del profitto come unico obiettivo fregandosene altamente della salute delle condizioni di lavoro fanno perciò bene gli studenti a ribellarsi a scendere in piazza e a far sentire la propria voce e l'informazione dovrebbe per una volta seguirli dargli più spazio invece che guardarli con quell'aria di sufficienza più microfoni e meno manganelli dice bene stefano milani portiamo e accendiamo microfoni per chi fa radio e telecamere per le tv e il web come i tacquini per la carta stampata serve informazione massima attenzione sui diritti e sul lavoro proprio in questa fase storica del paese e con questo è tutto vi ricordo dalle 12 online il notiziario grs con le sei notizie di attualità dall'italia e dal mondo giuseppe manzo giornale radio sociale